bravissimo ok adesso arrivo anch'io spero è che io non sai ecco tu devi levarti tantissimo intanto ma proprio tantissimo ciao ti faccio così io ho paura io sono proprio incapace per queste cose parkour su parkour mamma mia i brividi porca noia obliquo turchi ma dai ero obliquo porca puttana c'è un buco da trappola c'è un buco da fessi e lì c'è la pedale occhio vaga che io attrappo ma proprio qui va bene è tipo che si era avvenenato da solo diciamo un quarto minuto io ho paura anche di questa roba merda sono stronzo io perché dovevo andare dall'altra parte lo so però sono proprio un coglione verrà evocato vela avvenenato vabbè al massimo tipo vabbè attira il tipo si troppo tardi no ma forse da quell'animazione no no è castro aspetta c'è il tipo ok e questo è un paracolo e basta guarda che coglione si è ammazzato da solo non l'ho visto vabbè 1736 di bexte boh vado non mi ricordo se c'è un boss o no quindi entro senza riscaldamento noo ah beh ok si si ah che schifo ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato esatto proprio lui vabbè c'è il patacca c'è un paio di speri in più comunque c'è il posto oscuro c'è ma ci scaccia adesso mi temo di sì no vabbè allora a questo punto mi faccio riscaldamento perché vabbè vabbè sì dai mi riscaldo anch'io lumacone sei mento oppure io faccio l'infame magari fatto un'animazione stessa faccio così si lecca il cocco ecco il culo che è morto cosa cosa ah bella questo mi sa che no c'è l'armatura di vengar si ma io guardo la faccia ma la faccia con vengar l'hanno porto al pacciano eh vengar bellissimo ok mi dovrei sentire sudato eh no no dicevo di là beh cosa vuoi eh esatto cosa vuoi eh non è che c'è da andare avanti no aspetta allo scorpione si dopo ti ho preso il piccolo ah ok ah si 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 no no è lui che fa ma dai ma aspetta questo qua adesso mi sciotta male lo so ah io guardo e muori che cazzo stravite quanti volte il resto questo qua oh abbiamo fatto il mio mondo e non siamo morti eh sono morto chi ha guarda lì una trappolona già sventata me ne dimenticherò però dopo ah oppure oppure posso fare il previdente speriamo di non distruggere il oddio ok no aspetta aspetta si esatto bene così non succedono cose eh già adesso si che tutto a posto un paiolo ah si? fa solo questo si si ah ah ma siete due bravissimi bello turchi vabbè l'hai aggrato giù eh 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 un secondo ah ti trucco no capitan find us colpa mia si 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 lo so che c'è una strada di controllo o no prova torcia già oh shit ah è questo che hai cercato l'inter già ho messo via la torcia per sbaglio fa vedere che cazzo è ok però un attimo io non so accendi vabbè è automatico pensavo che dovevo iniziare a ma se tu non leggi i messaggi perchè non vuoi leggerli certo quando cazzo ci arrivi che è un coso in metallo e eh scusa no il uuuuh costardo però non ne hai non ne hai tante cioè non puoi spammarle perchè ci è rimasto malissimo dall'avvenenata il culo di aver esplorato tutto ci sta ah una roba segreta ehm ok effettivamente aiuto guarda chi c'è qua dietro oh ah ok ok ehm ah ah il tipo delle scale si si collega eh 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 beh come una scale ma guarda cura la cesta mmm sta curando la cesta eh perchè cure i nemici e quindi wow un modo interessante che figato è un modo molto figo per scoprirlo veramente qui i dentini non si vedono si 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 vedono si vedono io non li vedo voglio vedere se scusarlo bene povero mimi ah guardalo è morto bene così no non è morto così prendi l'oggetto ehm l'hai addormentato sostanzialmente che figata ok non sputare i denti ok 3 2 1 via yes perfetto quando l'ho aperto io non me l'avevate detto però bastard ehm si effettivamente e l'hai preso un po' velocemente ma cosa mi dice che mi piace qualcosa esatto oh ah si veramente veramente oh per il belino oh cazzo no vediamo che senza veleno comunque fa qualche cosina carina puttana eh puttana ah no però c'è la corda non ho visto allora con lei posso provare no l'ho sbagliato mai sicuro che non possa fare l'emprese? mmm boh e questa qua la ma scusa e questa qua la ma il terzo non lo fa minchia amica devi avere dimetterti un po' di equilibrio ok ok ah ma eccolo il ninja quanto amagro che delusione che mi ha pure colpito ma no cioè ma guarda un po' o o l'anguattone ok Voglio vedere se era fisico C'è un terza ninja Stai vivo Ne vuole scendere un'altra Oh dio che lag Madonna Sono vivo Quanta vita Stai scendo C'era bisogno Ci sono altri secreti Sì Decidamente Bravissima Ci sono ciò No dai Perché basta con la reva Potrebbe essere Potrebbe essere un inizio Ehi guarda Se no ti stai cenata Ma che stai cenata Ma cosa sta facendo Ma basta Ah lì c'è una zona Ehi guarda Si è rotta sta cenata Non l'ho messa Oddio Che spavento Non c'era bisogno Se fosse utilizzato il computer Signorato mi stava guardando Ah grazie Conficcato nel Io? No Ah lo so Non è il solo Dove sei? Ah sì Lo so perché Ma tu sei No Un'altra porta Ok Ho fatto una puttanata No Dove è andata Dove è andata Ma tu sei un tipo Pensavo fossi il turdi Allora prima Allora ho fatto Tutta una strada diversa Da prima Ecco perché non mi trovavo Ho fatto una strada Nonchissima Ma È storto? Stardo Mi fumo Che cosa è storto? No Ah sì è storto Va bene 3 2 1 Via Ah Wow Scoprire una cosa Avendo la giallata prima Non so che io Lei non mi cagli Te Via Te Que Un talismano di Lloyd Ok Il potere degli dei Il potere di Zeus Il potere degli dei Fortuna Esatto